Un cordiale saluto da Subasio TV, la televisione online, che vi informa sui principali avvenimenti culturali dell'Umbria della settimana. Appuntamento con la dolcezza a Foligno dal 19 al 21 novembre con il Festival Mieli in Umbria. Nella splendida corte di Palazzo Trinci per tre giorni potremo degustare il miele prodotto dagli apicoltori umbri e acquistarlo insieme ad altri prodotti dell'alveare. Di contorno, dibattiti, mostre, concorsi e il convegno internazionale l'apicoltura nel Mediterraneo. Spostiamoci a Valtopina dove il 20 e il 21 novembre è di nuovo protagonista il tartufo, autentica eccellenza gastronomica dell'Umbria. La mostra a mercato del tartufo permette di degustarlo in un percorso all'interno del paesino Umbro abbinato ad oli e vini della zona e accompagnati da esperti tartufai del settore. Vi è anche la possibilità di effettuare escursioni guidate e trekking fra i monti circostanti. L'evento è ripetuto anche il 28 e 29 novembre. Restiamo sempre in ambito gastronomico. A Norcia e in tutta la Valnerina dal 19 al 21 novembre discena l'autunno del gusto. Una iniziativa originale che ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di Norcia, della Valnerina e dei suoi prodotti tipici. In questi giorni in piazza San Benedetto potremo assistere all'appello del processo alla lenticchia. Gara tra cuochi, workshop sulla promozione della vita contadina, degustazioni e mercato. Ad Orvieto dal 19 al 21 novembre potremo partecipare a Orvieto Food Festival, rassegna di enogastronomia, cultura e solidarietà internazionale. La rassegna si svolge secondo i criteri del movimento Slow Food, il bello, il giusto, il buono, e utilizza solo prodotti locali. Durante il festival, nella suggestiva cornice della rupe di Orvieto, si partecipa a pranzi, cene, happy hour e not turn off, con ospiti come cuochi, enologi, critici d'arte, giornalisti, registi, che si confrontano su argomenti di interesse mondiale. Ad alcune iniziative partecipano anche le scuole della città per insegnare ai bambini la cultura della buona alimentazione. A Perugia dal 17 al 21 novembre sarà di scena Immaginario Festival, manifestazione dedicata all'arte, alla creatività, all'innovazione e alla ricerca. Il festival quest'anno è dedicato al tema dalla cultura analogica alla cultura digitale ed è l'unica manifestazione che propone un solo tema rappresentato tramite diverse forme d'arte come cinema, tv, letteratura, musica e fumetti. Per questa settimana è tutto, Subasio TV vi saluta e vi ricorda di visitare le altre sezioni del nostro sito www.subasio.tv per ulteriori aggiornamenti. Appuntamento a mercoledì 24 novembre per la nuova edizione delle news.